Ciao ragazzi, oggi vi do un paio di dritte per come fare il Python, quindi l'ultimo boss della Garden of Knowledge. Parto con questa registrazione perché voglio farvi vedere anche un paio di trucchetti con il cleric, quindi ovviamente questa è l'issus più difficile per un cleric. È molto pesante e lunghissima e quindi se, soprattutto all'inizio, che non sapete bene fare le meccaniche, questo è un parto per un cleric e anche per il chant, se vi portate il chant, perché è veramente lunga, prendete sempre danni a OE in continuazione e anche grossi danni sul singolo quando questo va sul fuoco più prende anche il danno a OE. Quindi è veramente un instance veramente, veramente difficile, che è una di quelle che non sono mai uscite finora. Questa è veramente la prima instance, secondo me, veramente endgame. E da adesso in poi comunque gli instance saranno sempre così, ad Ion, è una cosa che a me attira molto questa, perché veramente l'endgame sta salendo parecchio di livello in più. Quindi, allora, cosa sapere? Prima cosa, la formazione del party. Non guardate questa, è assolutamente inadeguata per un instance del genere. Avete bisogno di un cleric, un chanter e assolutamente o un bardo, quello che consiglio io è il bardo, o se no in alternativa un cleric DPS che però sappia quando deve aiutare. Quindi, possibilmente quel cleric DPS deve aver già provato a farla in cure, quindi sa quando sono i momenti in cui il cleric in support ha bisogno di aiuto. Comunque, per gli inizi, io vi consiglio assolutamente il bardo. Non sono stato ascoltato all'inizio con il gruppo di Saevo, e infatti abbiamo perso un sacco di tempo con questo gruppo che era inadeguato. E il bardo è un must in quest'instance, perché comunque dura tanto, serve mana, qua il cleric brucia un casino di mana, perché sono soltanto danni a OE, quindi quasi esclusivamente dovete curare a OE. Quindi il mana vi si brucia, nonostante io usavo Salvation, doppie gelli, pozzemana abyss, quelle nuove, tutte di più, non basta. Anche perché in questo gruppo, come vedete, ci sono, c'è comunque un source che è 71, c'è un tank che è 71, quindi DPS è basso, l'instance giustamente dura di più, quindi più mana bruciato, più la stanchezza aumenta, perché comunque il boss non scende, e così via. Quindi, prima cosa, formazione del gruppo, cleric, chanter, bardo, se volete un cleric in DPS, ma non è necessario, comunque questi tre sono il must. Poi se volete un cleric in DPS, ma in linea generale, due ranged, almeno due ranged, e due melee, massimo due melee, perché come vedete, due tank, quindi dei python, quindi devono stare sotto il pitone, e due ranged lontani, quindi sulla destra e sulla sinistra, più spostati verso l'indietro, per cercare di prendere meno OE possibili, dai vari pitoni, quindi cercare di splittarvi il più possibile, per prendere meno danni a OE. Poi, cosa dire, ovviamente i DPS devono essere almeno 72, minimo, consigliato 73, perché fate praticamente quasi il massimo del danno, se siete a livello 73, se siete a livello 72, siete penalizzati, però è il minimo indispensabile per farla discretamente. Io consiglio anche i support in 72+, perché a 72+, tutte le classi ottengono una skill che è AOP, sia bardo, anche il bardo in cure, non l'ho mai sperimentato, però si potrebbe anche sperimentare, secondo me, a posto del chante, non lo so, si vedrà, però comunque anche il chante prende una buonissima skill da support, a 72, e il credit healing wave, secondo me è indispensabile per farla seriamente, quest'instance, e così via. Anche il tank, non è che si deve tankare anche qua, perché non c'è niente da tankare in quest'instance, praticamente, quindi il tank non serve a niente qua, quindi deve fare DPS, quindi almeno 72, io consiglio 73 il tank, perché già non fa DPS, se vai 71 o 72, non ne fai proprio, quindi queste sono le cose indispensabili per la formazione del gruppo. Poi, cose che dovete sapere, questa è la prima fase, come potete vedere, ci sono, dovete essere bravi nelle chiamate, delle skill, quello che dovete sapere è, Poison Fontan, per quanto riguarda il pitone, del Poison, e Cataclysm Flame, per il pitone del fuoco. Cosa fanno queste skill? Quella del fuoco, come potete vedere per terra, a chi ha il target di questa skill, appare sotto di sé, un cerchio infuocato, che vi fa danni ogni tot secondi, se vi state sopra. C'è un delay, su questo posizionamento del fuoco, come ad esempio, mi viene in mente a Croban, quindi se voi sentite il vostro nome, chiamato da chi sta tankando comunque il pitone, dovete posizionarlo, dove adesso è stato messo, quindi là, nel mezzo dei due pitoni, questo per quanto riguarda la prima fase. Quindi dovete posizionarlo lì, e il secondo, ancora sempre sullo stesso punto. Prenderete più danni, perché comunque c'è già un cerchio infuocato sotto, ne posizionate uno voi, più un eventuale skill dei boss, quindi, quando tu vai sul fuoco, devi essere consapevole, che prenderai parecchi danni, e questo deve saperlo anche il cleric o il chante, che vi sta curando. Soprattutto il chante deve dare manforte a curare chi va sul fuoco. Quindi, per questo, anche se il fuoco o il poison è su di voi, cercate di chiamarlo, così anche i cleric sanno chi è che sta per prendere più danni. Ok? Questo è. Poi il poison invece rimuove i cerchi infuocati. Quindi, se siete chiamati da chi sta tancando il poison, dovete andare subito, sui cerchi infuocati, aspettare un paio di secondi che vi arriva la skill, e uscire. Non è che dovete stare lì tre ore, magari all'inizio state lì, per cercare di capire più o meno il timing, poi piano piano con l'esperienza capite quando dovete uscire dal fuoco, perché sennò prendete comunque danni superflui in più. Questo è. Poi, nella prima fase, usciranno queste add, non si è capito, almeno noi non abbiamo capito ancora come fare a rimuoverle, come ho visto video coreani in cui non ci sono le add, non si sa come. Io credo che sia qualcosa relativo al dps, perché noi abbiamo provato di tutto, non siamo riusciti a eliminarle. Probabilmente è una questione di dps, cioè se il gruppo ha tantissimo dps, non escono le add. E' l'unica cosa che è venuta in mente, perché abbiamo provato veramente di tutto. Comunque ragazzi, la prima fase non è assolutamente un problema, molto easy, è soltanto questione di... E serve solo per imparare le meccaniche del fuoco e del poison, niente di più. Ovviamente, nel gruppo se c'è una oe, è meglio, quindi io consiglio un suorcio come dps oe, perché ha un botto di dps, e inoltre fa anche... ha delle buonissime oe, c'ha il summon meteorite, che è ogni minuto, che è proprio... è corrispondente a ogni spawn di add. Le add spawno ogni minuto, dopo il secondo flame, e quindi voi avete il suorcio a disposizione, la oe, ogni spawn di add. Quindi è veramente easy con un suorcio farle. Quindi come avete più in intuito, il flame è ogni 30 secondi circa, e il poison circa ogni minuto, quindi dopo due flame, state allerta che arriverà il poison velocemente. Non è così semplice chiamare il poison in flame, perché molte volte cambia target talmente veloce come... non proprio come a Hyperion, forse ancora peggio che su Hyperion. Cambia target talmente veloce che non ve ne accorgete neanche, anche perché l'instance è caotica, ci sono molti effetti, ci sono molte cose a cui guardare, quindi non... magari non riuscite a fare benissimo attenzione, non ve ne rendete conto, chiamate la skill su chi ha l'agro in quel momento, e non sul target. Un altro trucchetto è, quando qualcuno chiama la skill, deve aver presente che il fuoco, il poison va sempre sul primo target del boss. Ad esempio, se il boss sta targettando me, che sono i cleric, e dopo due secondi cambia target, mentre sta ancora facendo poison fontans, significa che il poison andrà su di me, e non su chi sta tankando, quindi quando ha switchato l'agro. Altro trucchetto, diciamo, se non siete sicuri su chi è il poison, andate tutti dentro, perché comunque, avere 3-4 flame negli instance è problematico, significa che almeno qualcuno morirà, perché 2 flame sono un problema, 3 flame sono un grosso problema, 4 flame significa quasi sempre morte, se non siete un tank, o non avete l'artform. Altro trucchetto, artform necessaria, secondo me, soprattutto all'inizio, che dovete imparare, perché vi serve il culo, quando dovete rimuovere il poison, a 4 flame, se per caso sbagliate sul poison, prossimo poison o flame, andate lì dentro, cazzo duro, con l'artform che non prendete danni quasi, quindi quella è un must da tenere per tutti. Poi, Cleric, altra cosa che voi dovete sapere, è Raging, Raging Toxic Poison, cosa di questo tipo, questo è il casca, l'Atal Mist Flame, quello del fuoco, cerchiamo di trovare un attimo, questa skill che vi dico io, perché dopo questa skill, dovete sapere che state per prendere, un botto di danni, a way, quindi tenete e preparatevi una Rippo, una Splendor, o se proprio non le avete, comunque una skill a way, a portata di mano. Si vede anche il poison, il pitone, che proprio sputa fuori, dovrebbe essere questa, ecco, è questa, che sputa fuori proprio del veleno, verso tutti voi, non questa qua, questa è un lato attack, quella là che avete visto prima, adesso ve la faccio rivedere magari, questa qua, Aging Toxic Poison, questa qua, quindi qua, prenderete molti danni, quindi soprattutto se, capita questa skill magari, quando ci sono le add, quindi, che esplodo, se esplodono, vi fanno danni a way, più questa a way, più magari qualcuno deve andare sul flame, quindi, un botto di danni, tenete d'occhio a questo. Mi sono dimenticato, che le add spawnano ogni due flame, quindi dopo ogni minuto, come vi ho detto prima, e dovete killarle, non ci sono altri modi, per evitare una morte, certa, a meno che, il chante fa qualche miracolo, qualche shield, però, comunque, è buono anche, killarle, perché danno dp, quindi, almeno due, due minimo, tre meglio, ah, dovete killarle, vedi come qua, Sorcio le ha killate, praticamente da solo, a way, è necessario killarle, se no, esplodete male, ok, vediamo, se riesco a beccare, il momento in cui, cambia target, con, velocemente, con il poison, eccolo qua, allora, aveva target su, sieve, però, poi ha switchato target, su me che avevo lag, adesso ve lo rifaccio rivedere, è molto difficile, cioè, dovete tenere, eccolo la, sieve più lia, visto, aspetta, il target su sieve, sieve lia, quindi, il primo che ha, infatti, se potete vedere, anche che il poison, si gira verso l'indietro, quindi, è già quello, è un indizio, che sta facendo una skill, su qualcuno all'indietro, verso l'indietro, quindi, già la, vi potete aiutare, però, è comunque sempre meglio, tenere veramente, gli occhi sempre fissi, su qua, perché, come vedete, è velocissimo lo switch, ucciso i primi due pitoni, devono essere, uccisi contemporaneamente, come, macarna, aprirà, un terzo python, questo qua, fa comunque, qualche altro attack, su qualcuno, quindi, sono sempre danni in più, da tenere in considerazione, non ci saranno più le add, nella seconda fase, però, c'è un'altra meccanica, spona un, uno yotun, dietro nella, safe zone, si chiama, e appare, uno yotun buono, anche, se lo yotun, scende sotto, metavita, non vi, non vi potete più salvare, dal, dal fear, che fa, questa, è la skill, si chiama, sol tiff, non la potete vedere, perché, non state attaccando, il python centrale, quindi, non potete vedere, il cast, di questa skill, ma quella la, se non siete nella safe zone, quando fa quella skill, vi fira, e non può essere neanche, dispellato, quindi, cosa fare, ci deve essere qualcuno, possibilmente, ranged, incaricato, a, killare lo yotun, e, inoltre, i chanter, eh, o comunque, il, in questo caso, il bardo, potrebbe anche farlo, curare lo yotun buono, se sta scendendo troppo di vita, perché comunque, il, lo yotun, quello cattivo, diciamo, lo colpisce, come potete vedere qua, come fare a chiamare la safe, Allora, la safe è molto, non è, non dico che è complicata, però non c'è, eh, un metodo, valido per tutti, per cui chiamare la, la safe, la safe, è un po' in base al dps, e un po' in base a quanto, ci vuole a, a killare lo yotun, quello là cattivo, e, e anche in base ad altri fattori, che non, non siamo riusciti ancora a ben capire, quindi dovete andare un po' ad occhio, quindi all'inizio lo chiamate un po' prima, e poi, cercate di aggiustare la chiamata, però, all'incirca, questo è, ehm, un paio di trucchi per chiamare la safe, allora, voi, che è incaricato a killare lo yotun, ecco, in questo caso è stato firato, perché sono tornato indietro tardi, questo è quello che succede, ehm, cosa fare, quindi, killare lo yotun cattivo, quando è al 30%, della, della sua vita, chiamare la safe, voi tornate indietro, e, comunque, killa, aiutate a killare lo yotun, aspettate là fino a quando non c'è la, il cerchio per terra, che sarebbe la safe zone, come in questo caso, questo è il cerchio, poi, per capire quando potete uscire, appena colpisce per terra, questo cerchio blu, vedete che potete uscire poi, questa comunque la imparate con l'esperienza, mano a mano, riuscite sempre a rilascizzare di più la, la safe zone, io dico safe zone, ma non è per niente safe, perché quando tutti andiamo nella, in questa safe zone, vuol dire che stiamo per prendere un casino di danni, perché siamo tutti ravvicinati, quindi un sacco di away addosso, e, e quindi ovviamente i click devono essere pronti, con una noble, una ripple, una splendor, eccetera, eccetera, vedete come vedete, quando si muore, di solito è quando si va nella safe zone, questa famosa safe zone, che non safe zone non è, ehm, poi, cos'altro dirvi, ehm, ci sarà ovviamente panico, quando inizierà qualcuno a morire, quindi significa anche cerchi messi a caso, come in questo caso, vabbè, qua ci può anche stare a mettere di qua, poi non è, ehm, il top da fare, i cerchi nella seconda fase, non vanno più messi nel centro, ma vanno messi all'indietro, sulla destra in questo caso, quindi sulla sinistra, se voi guardate i poison, i pitoni, ma va bene anche di qua, esempio, se qua vi capita di metterne due, potete anche metterne due da quest'altra parte, e aspettare di, di rimuoverli lì, allora, proseguiamo qui col video, e magari vi faccio vedere, qualcos'altro di più interessante, ehm, anche perché quella lì, la, 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 lì, l'abbiamo provata dopo, ehm, niente, allora, vediamo un attimo, quindi, cosa, come vi stavo dicendo, non impanicatevi, se qualcuno muore, il bardo può arrestare, tranquillamente, se non ha più l'arresto il bardo, ci prova il, 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 il chante, cercate di non far arrestare al cleric, proprio se, eh, è indispensabile, perché comunque il cleric, veramente, è quello che ha più pressione, nell'instance, e, deve curare sempre, il chante e il bardo, sono gli unici, che comunque, hanno più possibilità di farlo, per quanto riguarda, un altro, un altro consiglio che vi do, chi tanca il, uh, flaming python, sarebbe meglio forse, un plate, o un sin, perché comunque, è quello che prende più danni, di tutti, siccome, è quello che di solito, riceve più, chiamate del, del flame, perché lo sta tancando, non da più agro, e quindi, è quello che cerca, che prende più danni, sui cerchi, se voi state tancando il poison, è quasi improbabile, che vi chiamino per il flame, perché, non fate danno sul, flaming python, quindi, cercate di, ehm, può capitare, che, il vostro pitone, sia, abbia gli HP più alti, rispetto a, all'altro, e viceversa, cercate di far switchare target, solo a uno, dei due, che sta tancando, quello con l'HP, quello con il pitone, con gli HP più bassi, perché, se voi skillate il pitone, entrate automaticamente, nel, il target possibile, dei flame, e del poison, quindi è un casino, se, eh, tutti possono essere bersaglio, dei flame, e del poison, i curatori, abbe, sono soggetti a tutto, perché giustamente, prendono agro, con le cure, e quindi lì, non c'è niente da fare, poi, quindi, io ho la chiamata, della safe, ve l'ho più o meno spiegata, ah, poi, ok, se vedete, che è troppo presto, quando chiamate la safe, con il 30% del pitone, allora, la chiamate, quando lo killate, lo yotun, altro trucchetto, che mi viene in mente, ma che non funziona sempre, almeno, dovete essere veloci, è quando, lo yotun, ha un self buff, che fa, insight fury, quando lo yotun cattivo, casta, insight fury, vuol dire, che dopo due secondi, ci sarà, la safe zone, quindi, potete anche provare, a chiamarlo, quando c'è, in self fury, subito chiamate, e voi dovete essere svegli, e andare indietro, questo però, non funziona sempre, questo trucco, ma, le ultime volte, abbiamo visto che, funzionava abbastanza bene, infatti, tornavamo dietro, proprio, giusto giusto, in tempo, ovviamente, è un rischio, come avete visto, prima, ho beccato un fear, perché sono stato abbastanza lento, e quindi, poi, cosa altro, quando arrivate a killare, i due pitoni, cercate di tenervi, le skill migliori, quindi, tutti i buff, potenziali, le dp, e cose varie, per il pitone centrale, il pitone centrale, avete poco tempo, per skillarlo, per arrivare, alla terza fase, quindi, la fase finale, il boss, degli hp, deve essere all'incirca, al 25%, e sotto, quindi, è quasi improbabile, che ci riuscite, nella prima fase, noi siamo arrivati, sotto la metà, nella prima fase, perché siamo, molti, livello 72, di, di dps, magari, se fossimo tutti, livello 73, 74, si potrebbe, chiudere, anche, durante la prima fase, spero, che sarà così, in futuro, quindi, sarà molto veloce, quest'instance, in futuro, quando tutti conoscono, le meccaniche, e hanno il livello necessario, quindi, vabbè, non è un problema, si rifà di nuovo, la seconda fase, questo è, è quello che vi dico, che, per cui, quest'instance, non è che la chiudete a caso, quando chiudete quest'instance, vuol dire, che l'avete, veramente capita bene, il gruppo è fatto bene, e, cioè, non si può finire a caso, quest'instance, non è le, come le vecchie instance, che tu vai dentro, senza tss, magari, e, speri di poterla chiudere, no, qua tutti devono parlare, tutti, bisogna avere una buona comunicazione, bisogna essere svegli, soprattutto, non è, per niente, facile, quindi, si fa di nuovo, la seconda fase, qua, mi pare, che proprio verso la fine, avevo avuto una botta di lag, forse dopo il pitone, ecco qua, ho avuto la botta di lag, ok, va bene, allora, qui, schilliamo il boss pitone centrale, un'altra volta, ci fermiamo, quando è praticamente al 25%, perché tanto è già, sufficiente, per, per fare comparire la terza fase, quindi, schillate, tornate indietro, chillate il, il pitone è già stato chillato, e niente, aspettate che il boss, risusciti, e arrivi alla fase finale, fase finale, io qua, ehm, ho avuto una botta di lag, quindi, per il momento, mi sono messo all'indietro, ma non è la posizione più adatta, dovreste mettervi, nelle stesse posizioni, in cui stavamo schillando, i pitoni, quindi, ehm, un melee a destra, un melee a sinistra, due ranged, destra e sinistra, e i curatori in centro, comunque, se avete raggiunto questa fase, è probabile che morite proprio qua, cioè, veramente easy, e questa è la, ragazzi, quando arrivate qua, è la parte più bella, cioè, veramente, vi, suscita emozioni incredibili, se vi fate proprio qua, ragazzi, mi metto a ridere, comunque, poi, killate il pitone, e, ehm, si sblocca un filmato, ecco qua, ero crashato tipo, completate la campagna, e, cosa potete luttare a questo bel mostriciattolo? Potete luttare, i gioielli, quelli, ehm, orecchini, con lana, elmo, che potete luttare solo all'ultimo boss, e, ehm, le armi, ovviamente, e, petto, petto è l'unico, qua, lo potete luttare, qua il petto, potete trovarli anche blessati, ovviamente, e, ragazzi, sono sicuro che ci sia, un doppio loot, anche del secondo boss, come potete andare a vedere nel mio vecchio video, delle, secret room, ehm, di quest'instance, però devo ancora scoprire come sbloccare, il secondo loot, dell'ultimo boss, anche perché, eh, bomba, se riesco a scoprirlo, tanta roba, quindi, se riuscite anche voi a chiudere l'instance, e riuscite anche a trovare, ehm, come sbloccare, il secondo loot, fatemelo sapere, perché, ragazzi, eh, è buono che tutti lo sappiano, così, i prezzi delle armi scendono, i prezzi dei gioielli scendono, e tutti ne beneficiano, comunque. Ragazzi, spero che il video vi possa aiutare, vi possa stimolare, ad andare e provare a fare il boss, e ci vediamo sul serve, mettete like se il video vi è piaciuto, e anche per supportarmi, e continuare, comunque, a fare i video per aiutarvi, se no, non li faccio più. Ciao ragazzi, ci vediamo sul serve. Ciao. 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 уч